Ceramica Sarcola è un'azienda che si trova in Spagna, in provincia di Valencia e è un'azienda che è già dal 1960 fabbricanti di ceramica. Abbiamo sviluppato una ceramica per il profumo, lavoriamo con aziende dell'alta profumeria, tanto in Italia come in Francia e in altre parti del mondo, dove è una ceramica per il gift, promozionale per i profumi. Abbiamo sviluppato anche differenti tipi di tester per i punti vendita, dove spruzzando il profumo, nei punti vendita lo possiamo far sentire al cliente. Possiamo smaltarle, anche un'altra novità che possiamo fare con la ceramica, non solo la pastiglia in si, ma anche smaltandola e con la collocazione anche di transfer nella propria smaltatura per mettere differenti nomi del profumo delle aziende. Noi esponiamo anche in altri paesi, per esempio in Francia, e ci sembrava una novità, una cosa molto importante farlo anche qui in Italia. Siamo contentissimi, abbiamo avuto molte visite, vediamo anche l'opportunità di non solo rifarlo per le aziende del profumo, ma anche per altri settori, visto che la ceramica è un materiale molto nobile che ha diverse riuscite, siamo molto contenti di questa accoglienza anche qui a Packaging Premier.